La struttura che ospita la sede dell'Icranetta Pescara in Piazza della Repubblica è stata intitolata a Carlo Pace, sindaco di Pescara dal 1994 al 2003, scomparso nel 2017. La cerimonia con il sindaco Carlo Masci davanti alla sede del Centro Internazionale di Astrofisica Relativistica diretto da Remo Ruffini che proprio Pace voglia accogliere a Pescara nei locali ristrutturati dell'ex stazione ferroviaria. Si tratta di un riconoscimento voluto dal Comune per un protagonista indimenticato della vita amministrativa cittadina. Quando la famiglia mi ha chiesto di intitolare questo edificio a lui ho accorto con grandissimo piacere questa proposta. Noi avevamo intenzione già di dedicare qualcosa che lo facesse ricordare per sempre e la scelta è caduta su questo edificio perché lui lo ha voluto veramente come simbolo della città, della città che guardava lontano, guardava avanti, guardava soprattutto la scienza e la crescita dei giovani che sono qui. Grande emozione da parte della moglie di Carlo Pace. E' un mio grazie sincero a Carlo che è stato vicino a mio marito per tanti anni e hanno continuato tante battaglie e naturalmente a professore Ruffini, questo grande scienziato che Carlo incontrò nel 1995 e volle assolutamente insieme a lui creare questo scelto.